Il bus day è una giornata dedicata a basso e sono molto felice di esserci perché non vorrei parlare solo di basso perché è come parlare di calcio, parlano solo del ruolo del portiere, quindi colgo questa occasione che mi è stata da questa meravigliosa scuola fatta di persone che hanno voglia di fare, per poter parlare insieme ai ragazzi di musica, non perdendo vista la caratteristica principale della musica, la musica è proprio il piacere di fare insieme qualcosa, chi sta sul palco e chi sta sotto, il momento che va di là delle posizioni politiche della propria lingua, della propria cultura e che accomuna tutti e mette tutti d'accordo, è meravigliosa, quindi il bus day, il Bali bus day è un'occasione in più nella quale potrò magari dire ai ragazzi, avendo vissuto da 40 anni la musica piena, il tempo pieno, tutti i livelli, cos'è per me la musica, quindi è il basso, ma il basso è il 10%, insomma, ecco, quindi quanto ci si sarà portare, come dire che nel calcio uno sa pallaggiare tanto, ma quando giochi con la squadra o sali gli sbogliatori devi prevedere gli altri, ecco questo.